Mando il drone struttetto Attività nemica, neutralizzate la minaccia Possono morire di sanguati in silenzio? Vi prendete la stanza e proteggete il contenitore Tornate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia Identicatevi del contenitore Un operatore alleato rimasto Tornate a occuparvi del contenitore Un solo difensore rimasto Tornate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia Difensori neutralizzati, vittoria per gli attaccanti Tornate a occuparvi del contenitore